I nostri avversari hanno fatto una gran partita, erano in sei quindi è difficile pure per loro comunque su uno sport del genere giocare con un cambio solo però ci abbiamo creduto e alla fine l'abbiamo portato a casa i rigori. I nostri giocatori tirano molto bene i rigori, l'abbiamo visto anche in campo, Frasca ne ha segnati due la scorsa volta, De Lio oggi ha tirato due bei tiri, ha fatto una gran doppietta e siamo contenti, poi l'avversario ha sbagliato il rigore, noi più noi segniamo e quello che viene, viene. Sappiamo che i nostri avversari hanno fatto tanti gol, cercheremo di giocarla al meglio delle nostre forze come abbiamo sempre fatto fino adesso, come tutti cerchiamo la finale e speriamo che arriva.